Ciao a tutti, oggi è l'11 febbraio, giornata internazionale delle donne e le ragazze nella scienza. Vi invitiamo a partecipare ad un progetto comune. Inviateci le vostre domande e curiosità relative a temi di fisica, astronomia o anche sul percorso di studi e le prospettive di ricerca. Saremo molto felici di rispondervi. Sono Bianca Maria Poggianti dell'Osservatorio Astronomico di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Mi occupo di studiare la formazione e l'evoluzione delle galassie. Sono Linda Venturi e lavoro presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova. Io mi occupo di materiali, in particolare di materia solida, e caratterizzo la materia secondo le sue proprietà fisiche. Ciao, sono Elisa Prandini e sono un'astrofisica. Mi occupo dello studio della radiazione energetica dallo spazio, in particolare dai buchi neri. Ciao, sono Marina Passaseo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova. Partecipo a un progetto di fisica delle particelle elementari al CERN. Ciao, sono Chiara Sirignano. Mi occupo di fisica dei neutrini e partecipo alla missione spaziale Euclid che ci spiegherà le origini dell'universo. Ora tocca a voi ragazzi, aspettiamo le vostre domande. a voi ragazzi, aspettiamo le vostre domande.